In questo video speciale di Natale, questo sarà il primo speciale di Natale con io, Darkai e il nostro amico Filicher Buonasera Oggi giocheremo al nostro carissimo Fortnite dove hanno messo il mezzo inverno che è molto bello Bellissimo, con tutti i regali che io ho aperto purtroppo perché la registrazione di prima è andata perduta Però potete vedere che c'erano molti regali, molte cose, c'è il camino fantastico Crackshot non c'è purtroppo però ce l'ho io, i fili quindi ce l'abbiamo Usciamo dal rifugio, come potete vedere questo giocamento del negozio Il negozio di Natale, molto bello E a me piacciono molto le presentate, avete dovuto sapere che io sono un fanatico Io direi di avviare subito Eccoci Oh, per il nostro babbo è Natale E' un paccioccoso, guarda lì E' un paccioccoso, molto bello Neve equals Natale, quindi Ok, quindi bastione Andavo, giusto, unito bastione Let's go Non moriremo mai Non possibile Devo salire dai coglioni Me l'aspettavo, ma tutti con lo scarto Sì Sa che arriva un po' basso Facciamo una sosta precedente Ok, ci siamo droppati appena In queste pianure, anzi colline diciamo Nella bastione Quindi giustamente prenderemo Oh, gente Prendiamo il nostro tubo Ipergalattico Gravigazionale Che è giusto che sia E la Terminato Perfetto Alla via Olè Perfetto 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 Ma cosa Non l'ho mai visto Ma cosa Ma cosa è successo? Siamo diventati delle palle di neve Ma cosa? No, non l'ho scoperto L'ho scoperto una Posso giocare a palle di neve con lupo Oh, non ci entra Guarda Ah Oh Cosa? Cosa? Oh, no Ah Non mi muo Nodo E la merda di neve scuola E però c'è un'altra No, non c'è un sale Oh, ma Cosa è più coglione Cioè, uno era Naccio Chunks E ora è Bet Qui, Atacos Vabbè E' Batman E' Dacos E' Batman Nodo 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 Madonna Madonna Cioè, non c'è una bomba Ma c'è una spada Che culo Guarda Armeria tattica Locata appena Andiamo a rip Ok Se arriva un altro taglio tutto di vento macinato, no Merda No, ci fai l'amburgo L'amburgo No, mi serve il coso Mi serve il pescio No Che è il pesce Merda Ah no Pensavo su uno scudo Pensavo su uno scudo No, non l'hai mangiato Me l'ha mangiato il lupo Ah Ma vaffa Ma vaffa Il culo Prendiamo il lupo Lupo, Dio santo Vai lupo, scuti lupo Ma me l'ha mangiato il lupo Il culo Prendiamo il lupo No Andiamo, andiamo Il culo Andiamo Andiamo a bastione Ok, arrivo Con il mio forte mandriano Oh mio Dio No 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 Bra Se non hai vedere il salvatato Per il salvatato Che ho fatto Vabbè Andiamo All'esposto Sì Domus Domi Domum Domus Domi Ruri Domi Ruri Uni Non ci accende il complemento di luogo No No Mai 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 Vabbè Folle È tutto Non fai niente Sei No Ah Ma dai Ma dove Non c'è Non c'è Non c'è Mi fanno È molto In了 Mitri Rutto Infatti Vi Ai Si Manca l'ultima être Splash 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 No, ma non è morto, quello lì era un bot, fraccia, è sempre E tra me la scheda Mi stavo per dimenticare No, no, attento, se vuoi c'è un tappo con le ore? No, no, non lo voglio Anzi, te lo famento perché così lo posso Mamma mia, che gentiluomo, no? Perfetto Pingo subito il posto Il cippo Ce la faccio Ce la fai, ce la fai Però attento Ma in colonia super E devi prendere un... Attento non... Devi prendere tipo un motorino Oh, mi spettavo Oh, mamma mia Oh, bravo, bravo Oh, no Oh, bravo Ah Tento Oh, mamma mia L'avventura più complicata mai Ci le sgravo Ci le sgravo Nooo, non ci credo Mi hanno fatto un lift, è attento Due lift Ci sono delle costruzioni da qua Che non arrivi in ora perché gli taglio tutto Fa diventare spaghetti Ok, perfetto Mamma mia, mamma mia Che grande Arrivalo No, giudente Non ci voglio vedere Non ci voglio vedere Vieni qui, vieni qui Arrivo Arrivalo, su Non nulla Ma, anche questo Ah, non gli spettavo Oh, mio Dio Oh, mio Dio Quei coglioni No No Non potevo jumpare Porco, schifo Vabbè, vabbè 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 Rockshot Bellissimo Bra, guarda, vieni C'è la stradina perfetta Ok Adesso sappiamo Ti ho lasciato Una cassa Bellissimo Eccolo Siamo, non è possibile Guarda Che posto è? Oh, mio Dio Mi sta succedendo Oh Oh, mio Dio Che cazzo sono? Oh Oh Cazzo, domori Dio Chi è? Oh, mio Dio Pacco i denti Aia Cosa è sta cosa? Aia I coins Cos'è? Oh, mio Dio No, mi dire Non è un survival, vero? Potrebbe Seruso No Madonna Survival Aiuto, aiuto Ok, ok Forse ho capito No, survival Forse bisogna sopravvivere E guadagnare più soldi possibili Però là c'è un tempo Non è che bisogna sbloccare Tico qualcosa Dobbiamo vedere tutti i misteri di questa mappa Dai Stiamogli a scoprire questi misteri Cioè, non lo so Cioè, può stare in una nuova dimensione Non ci ha mai visto questa cosa Via Vedo che c'è anche delle armi che possiamo usufruire Allora compriamo Compriamo, riprendi Allora, ok Un po' di roba Un po' di roba Perfetto Eravamo infattita Cinque secondi fa Che fatti? Non so No, siamo in una nuova dimensione Ma da cosa? Per me è fatta Tutta opera di crackshot Noi che pensavamo che fosse così E' di poso Ok Coloso Ma come è con il Che è successo? Non senti Vabbè Io direi di Oh ma qua c'è pure una zona fuori esterna Ma cos'è? Che è bello ma Oh! Ma qua c'è un robot Ma qua c'è un robot Eeeh Ho volato Qua c'è un dispenser con una carta Solo delle carte Ho capito Forse dobbiamo Vai perfetto Dobbiamo posizionarmi Sbloccare qualcosa Mi porta Ma Il segnale mi porta verso Infinito Verso l'alto Ma Verso l'infinito Ok Grazie non saprei proprio se dove trovarlo provo a ritrasformarlo non c'è nessuno però non ce l'ho provo a imparare qui non penso che sia successo nulla mancano schede andiamo 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 vai sgancia mia scheda perfetto perfetto non la vedo è infatti è che non ti ho sganciata dammelo 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 e no io niente la voglio dare vabbè eh ma per il continuo non ne dà appena manda ma non c'è niente credo non ti dà vabbè oh mio dio ci credo ma dai che rianimo la versione blob che scherzo è perfetto sono un blobino minuscolo che questa rianimo nasciata veramente da video proprio ah già stiamo facendo video lol ok andiamo perfetto non posso far niente ne ho cerchiato e anche io vabbè ok comunque dobbiamo non ho perso tipo questi blocchi andare una direzione magari solamente per loro ok 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 aspetta fai provo a spararle ok 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 dai dobbiamo trovare questa scheda ci sono delle armi molto utenti ah ho trovata hai trovato una scheda trovata quante scheda abbiamo no no ma come l'hai persa no ma come l'hai persa pensavo di averla trovata invece no 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 dovrebbe essere da questa parte magari sto tornando per aiutarti a prenderla oh trovata trovata eccola qua servono giusto un pochino di soldi questo vino penso di averne abbastanza per portarla ok e invece non ne ho abbastanza ok dovrebbe averne abbastanza si beh perfetto l'ho presa quante ne abbiamo? vai andiamo eh ma come torniamo indietro adesso? si oh c'è un'altra caccola esatto vai riprendiamola perfetto non ce la faccio ok perfetto caccolino andiamo andiamo torniamo lì perfetto perfetto eccoci ci siamo torniamo eccoci bene quante te mancano di carte? eh mi sa che sono tutte le sai penso che dobbiamo andare da questa parte vieni guarda io ne ho due te quante ne hai? eh io ne ho quattro perfetto per il momento principalmente io avevo preso prima l'elicottero ma mi è esploso malamente quindi è tornato lì l o l vabbè oh dunque penso che dobbiamo andare in questa zona almeno me la tratteggia mi dice devo andare su ah penso che devo andare a questa parte e non lo so mi indica qualcosa forse magari dobbiamo prendere questa cosa vediamo? come siamo? io penso che dobbiamo bloccare questo portale siamo tutta una specie di navicella speciale e allora posizioniamo le carte vai interagiamo aspetta 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 una fuori ok questa è qui due fuori due tre fuori aspetta tre ok vai ci manca anche questa quattro fuori ok attenzione che mi sa ok eccoci attento eh ah ah nooo ok diciamo quasi andai andiamo 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 posto io ci andrò sono caduto pure io di nuovo ci sono ci siamo oh mio dio siamo su marte ma cos'è c'è un bagliore assurdo pianeta di c'è c'è una capsula spaziale ma cos'è oh mio dio c'è uno dei geyser viola bellissima ci siamo vabbè dai penso che dobbiamo andare dove c'è quel bagliore andiamoci andiamoci un po' che strano quel bagliore eccoci guarda c'è oppure delle cose qua assurdo c'è una cavità c'è una cavità una cavità c'è una specie di di antenna dietro oh aspetta aspetta posso farlo oh vai vai nuke ma penso che dobbiamo entrarci ma c'è qualcosa cosa oh un bottone qualcuno l'ha già fatto prima di noi mi sa vediamo come va ah finalmente siamo tornati siamo tornati siamo tornati siamo tornati cos'era questa dimensione non l'ho mai vista vabbè allora come speciale di natale vi possiamo salutare arrivederci